Per quanto riguarda questi vocali, io sinceramente penso che li abbia mandati Alessandro. Credo sia stato lui, perché io sinceramente penso di non avere nemici. Ma il problema qual è? Chi l'ha mandato? Se la voce è tua? La voce è mia, sì, certo, sicuramente la voce è mia. Io ho detto che ho un manager, posso aver detto che una trasmissione è trash e ti dà fastidio? A me no, non c'è nessun problema. Io la faccio, quindi... E io infatti ci vengo, io la guardo, ci stiro, mi piace, mi fa pensare, hanno i problemi che ho. Ma a dire di quello ognuno può avere la sua opinione. Ma non è quella la frase... Non trovo neanche quella parola offensiva nella vita. Neanche io la ritengo offensiva, perché certe volte mi vesto e mia sorella mi dice che sono trash, ma io non mi sento offesa. No Maria, no scusami, intervengo. Ma non è quello. Dire una trasmissione è diventata una trasmissione trash, non è come prima... Gianni, posso dirti una cosa? Non me ne frega niente. Sì, ma davvero. Lei ne dà un connotato negativo. Ma non è il tuo capire. Non può dire che è positivo. Ho capito, ma veramente, veramente, è come se mi parlassi del nulla. Cioè, veramente, non mi offendo davvero. Non voglio perdere tempo nel parlare di una cosa di cui non mi interessa nulla. Quindi quello non è il motivo per cui ho detto di allontanarti dallo studio. Il motivo per cui ho detto di allontanarti dallo studio è il finale di quello che dice Gianni.